Come ridi? Questa è la pentola a pressione che abbiamo usato per sterilizzare le piastre vetri e il terreno di cultura. Il nutriente abbiamo aggiunto in un caso zucchero e frutto vegetale e in un altro caso zucchero, patate e lievito secco in polvere. L'agar è un polisaccaride usato come gel gigante naturale. Viene ricavato da olie rosse. Questi sono i due terreni di cultura pronti per essere utilizzati. Abbiamo messo le piastre petri contaminate in una scatola di cartone. Dato che i batteri crescono meglio al buio. Questo è il risultato dopo circa una settimana. I batteri e queste colonie li abbiamo raccolti per le nostre orecchie. Questa piastra è rimasta aperta all'aria e ha raccolto i batteri presenti nell'ambiente. Siamo riusciti a campionare batteri da diversi tipi di ambienti. Abbiamo osservato lo sviluppo delle colonie batteriche, ma abbiamo anche notato lo sviluppo di muffe che hanno contaminato alcune delle nostre colonie. Alguien ha trovato lì... Alguieno vos, eh!